sospeso, quindi pungoleremo di nuovo il Governo perché venga al più presto data risposta a questi dipendenti pubblici che si sono visti anche con la legge di stabilità, protratto nel tempo il TFR, addirittura devono aspettare ben 24 mesi, cioè due anni, per ottenere quello che è già loro, cioè un salario differito nel tempo. La ringrazio, onorevole Ciprini. Ora dovremo passare all'interrogazione 3, 2169 degli onorevoli Fregolente ed altri. Avverto che su richiesta del presentatore l'interrogazione è stata attesta e trasformata in interrogazione a risposta scritta ed è così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione all'ordine del giorno. Sospendiamo la seduta e riprenderà all'ora i 14 e 30. La seduta è sospesa. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.